Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi tiriamo un po' le somme, è il primo dei quattro video. Oggi parleremo di Under 19 e giovanili in generale. Domani uscirà il video sulla Under 23, dopo domani delle Juventus Women e chiuderemo appunto il giro con la prima squadra. Quindi dobbiamo analizzare il 2021 della primavera e delle giovanili. Allora facciamo un rapido recap. La Juve non ha vinto nessun titolo nazionale, era impossibile vincerlo con Under 16 e Under 15 in quanto il campionato è stato interrotto e non più ripreso. Era possibile vincerlo secondo me con l'Under 17 ma sono arrivati scariche all'appuntamento che contava. Con la primavera, la primavera si è fermata nel primo turno di eliminazione, la primavera che meritava secondo me di entrare tra le prime due ma è finita per i punti con Inter e Roma, il minor numero di reti segnate ha penalizzato i bianconeri che sono andati a giocarsi in quarti finale contro l'Empoli, campione d'Italia, che poi diventerà campione d'Italia. Stessa cosa è successa in Coppa Italia dove abbiamo affrontato la Fiorentina e siamo usciti proprio con la Fiorentina a Firenze, Fiorentina poi vincitrice della Coppa Italia 2021. Quindi un Under 19 che in realtà ha perso solo contro i campioni. Per quanto riguarda il discorso femminile, il discorso ancora simile nel senso che Under 15 e Under 17 non hanno vinto, non hanno vinto campionati ma perché non l'hanno potuto neanche concludere. La Under 19 femminile invece ha perso una finale incredibile contro la Roma dove la Juve ha sbagliato l'impossibile e la Roma ha trovato la rete nei minuti di recupero all'ultimo secondo. Per quanto riguarda invece, quindi il discorso di tutte le giovanili quest'anno è che non sono stati portati i titoli, però ricordiamo sempre che nel calcio giovanile i titoli contano fino a un certo punto. Conta la crescita dei ragazzi, la crescita della squadra e via discorrendo. Questo è un discorso che poi legheremo al discorso di domani sull'Under 23. L'Under 17 ha vinto per il secondo anno di fila l'Euro Youth Cup, uno dei tornei più importanti a livello europeo della categoria. Sono stati vinti tanti tornei giovanili molto importanti, penso alla Sardinia Cup o la Teitis Cup anche quest'anno. Insomma, sono stati vinti i tornei molto prestigiosi a livello mondiale. L'Under 17 addirittura l'anno scorso fece un bis in due settimane, quest'anno non ha giocato la memoria scopinio, però l'anno scorso mi ricordo che aveva vinto l'Euro Youth Cup e la memoria scopinio in due settimane. Quest'anno comunque abbiamo vinto l'Euro Youth Cup e abbiamo fatto tanti bei tornei in giro per l'Europa e per il mondo e tanti giovanili hanno ben figurato. Ho visto dei trofei veramente importanti vinti dalle Juventus giovanili. L'apertura del settore futsal che sono arrivati secondi al campionato interregionale dietro soltanto al Bologna e quindi insomma un bel settore regione della Juve. Ricordiamo che la Juve, questa non è da sottovalutare, gioca praticamente tutte le categorie con i sotto età e con giocatori molto giovani. Brucia le tappe, ma sono tappe che vengono bruciate per veramente far sì che questi giovani crescano parecchio. Nel femminile addirittura la Juve se non sta lavorando con una velocità supersonica, ingestibile per gli altri italiani, perché la Juve ha fatto se non il lavoro da subito con Braghin davvero eccezionale. Lavorare per vincere subito, ma lavorare anche sul futuro. In che modo? Magari sacrificando i campionati di primavera, perché lascio comunque ragazze giovani, ma mandandola in prestito è molto presto. E questo poi paga, vedersi i lenzini. Paga perché i ragazzi crescono bene, crescono bene, diventano forti, riescono a giocare molto più facilmente ad alto livello e a crescere più facilmente. Infatti non è un caso che Montemurro abbia preteso che Beccari, Già e Beccari eccetera rimanessero a Torino e non venissero dati in prestito, visto che c'era la possibilità del prestito. Lui le ha volute nella prima squadra. L'Under-19 maschile invece secondo me ha fatto un ottimo lavoro. È vero, non ha portato a casa titoli, però Bonatti ha un tipo di gioco davvero spettacolare, che piace, è un gioco che diverte, è un gioco che sicuramente pagherà nel lungo periodo e peccato non aver vinto ancora un trofeo. Però attenzione, questa squadra comunque in due anni è arrivata comunque ai quarti finali del campionato italiano, poi la partita con l'Empoli è stata anche un po' sfortunata. L'abbiamo molto sottovalutata come tifoseria, ma poi dopo alla fine l'Empoli è arrivato alle final eight in una maniera, veramente in uno stato psicofisico terribile, cioè uno stato psicofisico micidiale. Ha praticamente schiantato tutte le migliori e ha vinto il campionato italiano. Noi siamo arrivati ai quarti e abbiamo avuto paradossalmente la sfortuna di beccare l'Empoli nel momento forse più in forma del campionato. C'è poco da dire, si è stati anche sfortunati nei nostri quarti finali, ma l'Empoli comunque ha meritato di vincere il campionato, quindi assolutamente da sesta, da sesta. Quest'anno in campionato non credo che la Juve stia facendo così male come le Go, anzi io credo che la Juve stia gestendo le energie per stare su tre competizioni. L'anno scorso non c'era la Youth League, uscimmo in Coppa Italia, se non per adesso non mi ricordo quando abbiamo giocato secondo turno, ma era sicuro prima di Natale. Noi uscimmo prima di Natale dalla Coppa Italia contro la Fiorentina. Quest'anno l'abbiamo a gennaio contro la Roma, a Roma, quindi altro turno molto complicato, però ho detto di fatto che adesso noi andiamo in queste vacanze con la Juventus Under-19 in gioco su tre competizioni. Non era una cosa scontata, è una cosa fantastica a mio modo di vedere e complimenti a Mr. Bonatti e tutti i mister della Juve perché secondo me stanno facendo davvero un lavoro eccezionale. Quindi settore giovanile e primavera, in generale voto 8. Tanti giocatori forti presi all'estero, tanti giocatori forti che hanno esordito nei professionisti, ma questo ce le diamo domani con l'Under-23. Fino alla fine forza Juventus Under-19 e complimenti a tutti. Voto 8 all'anno dell'Under-19. Ciao a tutti.